DJ Slight, a mio parere uno tra i migliori e uno tra i più influenti produsser del rap italiano. Sfortunatamente in questi ultimi 5 anni, quindi dal 2015, che purtroppo non si sente parlare di lui, che purtroppo non ha pubblicato o annunciato nuovi singoli o nuovi album. Fortunatamente questa cosa qua si celò fino al 16 settembre, quando ha annunciato finalmente in quel giorno là, il 2 ottobre, la conclusione di una delle trilogie più amate e più attese della scena rap italiana. Siamo parlando ovviamente della trilogia Bloody Vinyl. Si tratta di mixtape con tracce contenenti, testi molto molto pesanti, ma allo stesso tempo con produzioni musicali perfette per essere ascoltate nei club. Questo terzo capitolo ovviamente non fa eccezione, dove contiene una vagonata incredibile di suoni differenti. DJ Slight non sarà da solo in questo mixtape, infatti The Supreme, Lockheed e Yard Miles saranno al suo fianco per tutta la durata del mixtape, con il loro personale stile amalgamato a quello di altri 25 ospiti, che metteranno il loro timbro personale su ogni traccia, sia sul lato vocale che musicale, prestando ovviamente la loro voce da mettere sopra le produzioni dei quattro, sia quando i quattro canteranno, sia quando non canteranno. Le basi in questione ovviamente saranno influenzate dai tantissimi testi scritti dai partecipanti. Partecipanti sia appartenenti alla nuova scuola del rap italiano, sia partecipanti appartenenti alla vecchia scuola del rap italiano, o se vogliamo essere più precisi, quelli più storici all'interno della scena. Quindi in questo mixtape possiamo trovare la bellezza di E basta, sono finalmente finiti, che bello. Già mi ero stancato di pronunciarli tutti quando io ho detto Taxi B, vi dico solo questo. Il mixtape inizia subito con la traccia secondo me più pesante all'interno di questo progetto, ovvero macette satellite, collaborazione ovviamente a livello vocale tra Salmo e Taxi B. Taxi B uno tra i tre partecipanti dell'Fsk a satellite, invece Salmo uno tra i tanti padri fondatori, se non il padre fondatore, della macette crew. Traccia a mio parere giustissima per introdurre questo mixtape, perché fa vedere al 100% di che pasta sia fatto. E questa traccia vede appunto una combo tra due stili musicali, ovvero quello di macette e quello dell'Fsk satellite. Quindi dare il nome macette satellite, secondo me, è stata la scelta più giusta da fare. Questo discorso che sto facendo vale sia per questa traccia qua, sia per un'altra traccia all'interno di questo mixtape, chiamata Greve. Nella seconda traccia di questo mixtape vedo la partecipazione vocale di Da Supreme e Danny Five. Invece per quanto riguarda la produzione di questa traccia qua, vediamo ovviamente Da Supreme con Yarm Miles. Invece Greve che vede sempre Da Supreme, però collaborare con Madman. E non è la prima volta che succede. Un aggettivo per descrivere entrambe queste due tracce? Coerenti. Coerenti è sicuramente l'aggettivo più adatto. Anche se già in passato, nel 2011 o nel 2012, abbiamo già visto tanti altri rapper comunque sperimentare su basi del genere. Per esempio abbiamo visto Moreno, Repare, su una base creata da Shablo, che ha quelle sonorità lì. O magari Two Fingers insieme a Fedez, che hanno appunto fatto Cassadritta. Per dare appunto un esempio di come si sta spingendo il rap italiano in questi ultimi dieci anni. Sicuramente questo qua è un disco che già dal primo ascolto stuzzirà tantissimi fan da underground, sia per quanto riguarda i producer DJ Slight in questione, o magari per i fan più underground della macete, che sono stati sempre abituati alle vecchie produzioni fatte da Slight in questione, e che stuzzirerà anche il fatto che sono presenti tantissimi suoni, ovviamente influenzati tra quelli che noi troviamo ovviamente al giorno d'oggi, ovvero quelli della trap, cosa che sinceramente non mi dispiace. Quindi posso dire, ma ovviamente questi qua sono gusti miei personali, al 100% soggettivi, quindi un'opinione al 100% soggettiva, non prendete la mia opinione come l'oggettività più assoluta, di essermi gustato qualsiasi traccia all'interno di questo disco. Sia per quanto riguarda tracce, presenti artistiche. Prima io disprezzavo, ma che in realtà disprezzo tuttora, ma che però secondo me, con queste strofe all'interno di questo mixtape, hanno saputo tirare il meglio di loro. E per avermi fatto scoprire anche artisti che prima io non conoscevo, a parte questo Sir Prodige, che prima si chiamava L'El Prodige, rapper del 2006, diventato tra virgolette conosciuto all'interno della scena, e non per aver fatto un mini dissing di Roni con solo le 4 ore, allo streamer barra youtuber Masseo. D'altro canto è un disco che non si può dire per niente che sia ripetitivo. Ogni traccia ovviamente ha un suo stile, un suo mood, e una determinata caratteristica che lo rende unico. Quindi che voi possiate trovarvi in una situazione dove vi siete giù di morale, che potrete scottervi tracce, per esempio, Alta Liene, con Dasu Prima e DJ Slight alla produzione, repato barra cantato da Mara Sattei e Coez, o magari nei momenti più belli della tua giornata, ascoltando quelle tracce che io avevo citato prima. Voi invece cosa ne pensate di questo mixtape? E soprattutto, per voi, qual è la traccia migliore o la traccia peggiore di questo disco? Scrivetemelo sotto nei commenti, e per la precisione soltanto nei commenti, non in privato, perché così almeno facciamo sbloccare dai views su YouTube. E soprattutto, datemi un voto generale di questo disco. Per quanto ricordo a me, Don Bell, otto e mezzo. Niente di più, niente di meno. Ciao ciao, lasciate like, commentate, iscrivetevi, e condividete il video con i vostri amici che magari sono fan di questo disco, o magari di questo genere a sé. Ciao!